Cos'è la storia? Il termine storia è un termine polissemico che ha più significati. L'eccezione che ci interessa noi pensiamo alla storia come una disciplina e che studia ciò che è accaduto all'uomo dalla sua venuta sulla Terra fino ai nostri giorni. L'approccio dello storico è un approccio critico. Cerca di ricostruire il passato attraverso documenti, fonti e cerca di ricostruire ciò che è vero da ciò che non è vero. Quindi cerca di ricostruire la verità dei fatti. Questo tipo di approccio critico differenzia la storia dalla cronaca. Quindi nella cronaca abbiamo un'enunciazione cronologica dei fatti senza nessun approccio critico. Nella storia abbiamo una analisi dei fatti con un approccio critico con lo scopo di ricostruire il passato e ricostruire le reali interrelazioni fra i fatti e ricostruire la verità dei fatti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.